Chiudiamo con internet. Per fortuna che c'è! Io mi ricordo una frase in cui si diceva più cabernet meno internet. Fu uno slogan che vent'anni fa era scritto su tutte le pareti. Oggi io posso dire che anche internet comperò delle garanzie maggiori e credo che qualcuno ha anche i vertici di Google e i vertici di Apple e i vertici di Microsoft se ne siano accorti che un internet eccessivamente libero non fa bene a nessuno perché diventa spazzatura tutto. Ci dovrebbero essere delle regole diverse per chi fa e-commerce via internet e bisognerebbe fare in modo che l'e-commerce forse è estremamente collegato a tutto un sistema di carattere economico fiscale che serva di garanzie di controllo a chi fa le operazioni e-commerce su internet. L'altra cosa importante è che se nascesse un sistema di trasporto tipo wind transfer anche su ruote o anche via internet anche questo sarebbe un'ulteriore garanzia per il consumatore finale. Il consumatore finale è pauroso oggi su tutto perché è la paura e quella che ha fatto maggiormente la crisi. Pensiamo noi al 55% di italiani che hanno più di 50 anni quanto può essere pauroso mettere mano alla carta di credito o dare il numero di carta di credito a internet per paura che gli succeda qualche cosa. Sfatiamo queste paure e internet può diventare sicuramente un grande strumento anche perché il vino è un prodotto confezionato nel senso che non ha tutti i problemi che possono avere altri prodotti agroalimentari non confezionati nel momento in cui vengono logicamente trasferiti attraverso un sistema di scatola confezionata all'ultimo momento e magari in paese e in mercati dove per esempio il discorso sulla carne di salume o il formaggio hanno una normativa completamente diversa che blocca determinate transazioni commerciali. Quindi internet va sistemato e può essere uno dei percorsi utili per il commercio italiano. Tu comunque col tuo osservatore del vino sempre allerta. Sì, 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 no, no di chilometri se ne fanno devo ringraziare LinkedIn ecco colgo questa occasione perché l'osservatorio mio esiste e funziona anche economicamente grazie a 394 amici sparsi per il mondo in 48 paesi che mi consentono di avere dei dati certi perché vanno a controllare bolle di consegna vanno a controllare fatture vanno a controllare prezzi sugli scaffali e poi me li riferiscono ecco che in questo modo si ha un quadro dalla Cile all'Australia fatto abbastanza bene.